La scuola è una sfida che abbiamo superato e che abbiamo accettato perché la scuola adesso diventa un centro civico, cioè un'apertura al territorio ad altissimo livello. È un laboratorio che dimostra in pieno il concetto di Industria 4.0 dove c'è la sinergia di scuola, università, aziende e chiaramente enti locali. Quindi è tutto ciò che il territorio messo insieme può offrire poi all'utenza, quindi ai nostri giovani che si affacciano alle innovazioni e a una didattica innovativa. Noi inauguriamo a breve, dopo la firma di questo accordo, un grande laboratorio che è congiunto tra Federico II e Righi per mettere in campo delle tecnologie estremamente innovative sulla manifattura 4.0 da far utilizzare agli studenti di Righi. È un modo per migliorare la qualità della formazione e soprattutto collegare il sistema scolastico all'università. Ottimo protocollo per l'avviamento al lavoro delle ragazze e dei ragazzi di Righi, un'eccellenza della nostra città e anche la città metropolitana, come sempre fa la sua parte in un settore su cui siamo impegnati molto e quello della scuola e in questo caso anche del rapporto con la Università Federico II.